La banca Valsabbina inaugura anche nel capoluogo Lombardo, quindi protagonista a Milano in corso Buenos Aires. Sì, la nostra settantesima filiale un po' in controtendenza rispetto al mercato. Stiamo continuando ad aprire a crescere e pensiamo che nel capoluogo Lombardo ci siano molte possibilità di business con il nostro modello fatto di decisioni snelle di vicinanza al territorio, alle imprese e alle famiglie. Pensiamo di fare molto bene in quella che è la capitale finanziaria italiana. Quindi in totale adesso ci sono all'incirca 550 dipendenti nella vostra banca? Sì, ecco anche questo è una controtendenza rispetto al mercato dove purtroppo nel sistema ci sono stati diversi esuberi negli ultimi anni. Noi stiamo continuando ad assumere. Negli ultimi tre anni abbiamo inserito 100 giovani con un'età media di 33 anni. Quindi anche questo è un dato positivo anche rispetto al beneficio che questo ha sul territorio. E la prima di tante altre aperture, è giusto confermate questa notizia? Beh, diciamo che questo va fatto con prudenza in questo momento. Noi abbiamo la tendenza di voler crescere ma con piccoli passi e visto che veniamo anche da un'acquisizione di sette filiali recentissime di fine 2016 dobbiamo concentrarci sulla messa a regime di queste filiali che hanno toccato anche molti centri dove non eravamo presenti dove ci sono dei capoluoghi di provincia come Bergamo, Vicenza e Modena dove ci sono degli spazi di sviluppo importanti e dove vogliamo crescere in maniera significativa. Diciamo che la vostra attenzione è sempre stata rivolta alle famiglie ma anche alle imprese e forse anche per questo i dati dei mutui sono in positivo. Sì, nel 2016 abbiamo fatto erogazioni a famiglie di impresa per 409 milioni, nel 2017 puntiamo a superare i 500 milioni. Di questi 409 milioni, 115 sono stati mutui alle famiglie per l'acquisto della prima casa. Per noi questo è un prodotto di punta, offriamo delle condizioni molto competitive tra i migliori sul mercato e questo è un servizio che vogliamo offrire anche per fidelizzare il cliente perché l'acquisto della prima casa è un po' un momento è l'apice tante volte nella vita di una persona e quindi avere una banca che ti aiuta in quel momento e ti dà un servizio e un prezzo buono è sicuramente una cosa che il cliente poi si ricorda. Sulle imprese che sono il cuore invece produttivo dell'economia fatta dal nostro tessuto economico da tante piccole e medie imprese in questo momento ci sono delle ottime possibilità di investimento per le imprese anche perché il governo ha recentemente varato il cosiddetto piano per l'industria 4.0 fatto di numerosi incentivi fiscali tutti insieme quindi è un momento storico per le imprese per tornare a investire sul territorio noi ci crediamo perché pensiamo che il territorio è fatto da un tessuto venditoriale che può farcela e quindi siamo qui per sostenerli con le nostre offerte di finanziamento per le imprese. Cosa vuol dire Industri 4.0 per la banca Valsa Bina nello specifico? Abbiamo dedicato un plafond specifico di 20 milioni per le imprese che investono nei beni che sono integrati con i processi produttivi aziendali in un'ottica 4.0 quindi con la robotica e questo plafond è dedicato con condizioni particolarmente competitive per chi fa investimenti in questo settore compra macchinari che sono ammissibili al cosiddetto iperammortamento che ricordano beneficio fiscale che consente di ammortizzare al 250% l'investimento che viene fatto dall'impresa quindi con un notevole beneficio fiscale. Il poter accompagnare questo con un'offerta finanziaria dedicata a tassi competitivi consente all'azienda di poter fare un investimento in tutta tranquillità ovviamente con un beneficio poi per l'economia locale perché questo può comportare nuovi investimenti spesso si accompagnano a nuove assunzioni. Banca del territorio ormai da anni? Beh sì, ormai sono presenti sul territorio da 120 anni, noi siamo una banca con un cuore bresciano perché a Brescia abbiamo ancora 49 filiali, la Vassabia è ovviamente la zona dove siamo nati dove abbiamo ancora una fortissima presenza, Brescia è il nostro quartiere generale però abbiamo un respiro ormai pluriprovinciale e pluriregionale, copriamo con la nostra rete ormai il territorio, il cuore economico d'Italia perché andiamo da Milano a Vicenza fino a Modena siamo nel cuore industriale dell'Italia, se l'Italia come pensiamo ha una speranza di uscire dalla crisi che c'è stata negli ultimi anni, questo è il tessuto dove questo successo può esserci e noi vogliamo accompagnarlo, questo sicuramente avrà un beneficio per la nostra banca e anche per i nostri soci che potranno tornare ad avere utili magari più altri rispetto a quegli ultimi anni, anche se la nostra banca è riuscita sempre a avere dei risultati soddisfacenti in termini economici, è chiaro che negli ultimi tempi il sistema bancario ha un po' vissuto di riflesso la crisi che ha colpito aziende e famiglie perché spesso ha dovuto fare pesanti accantonamenti uscretti, poi i tassi bassi non hanno aiutato a reddittività però noi pensiamo che con una ripresa forte dell'economia locale e qua il tessuto economico consente di poterlo prevedere, la banca potrà tornare anche a fare utili e anche a riprendere insomma quello che è il valore della banca oggi. Per quanto riguarda i risparmi? Beh diciamo che in questo momento dove spesso anche le banche sono attenzionate perché viste come rischiose, anche scegliere la banca dove depositare i propri risparmi è sicuramente molto importante, da questo punto di vista i nostri correntisti possono essere tranquilli perché la nostra banca da un punto di vista della solidità patrimoniale è a livello di eccellenza, a livello nazionale quindi si possono depositare i propri risparmi in tutta tranquillità, ci sono anche controparti istituzionali molto importanti in questo momento, si sono rivolte a noi per depositare la propria liquidità proprio perché trovano nell'investimento in Banca Versabina una realtà solida e sicura. In più le nostre filiali hanno ormai una gamma di prodotti molto ampia quindi per tutte le esigenze che si possono avere da prodotti assicurativi o del risparmio gestito, abbiamo anche una rete di consulenti dedicati che sono a disposizione dei nostri clienti per qualunque esigenza.